Due uomini in barriera, questo è l'ultimo assalto verso la porta di Sprayen per andare a saltare la battuta di Viviani, il colpo di testa, il palo e il gol dell'1-1, il pareggio del Verone. Viviani, Federico Viviani, Federico Viviani, Viviani. Viene trappi, la testa del butto, oh sì il butto per l'Ela Ferroide, l'Auriex. Michelin Cabella a scusato torre l'Ona. Viviani, Federico Viviani, Viviani. Ma ormai la partita è finita, sul gol Qui Verona di nuovo in avanti, passato il primo quarto d'ora del secondo tempo Il lancio lungo per Reto Marrone, la palla riconquistata dal Carpi Più reattivo anche in questo avvio di secondo tempo in mezzo al campo Verona però ha avuto a quota 5, gol di Ionita C'era sulla palla anche Pisano 3 gol da subentrato, seguiamo il calcio d'angolo Colpo di testa, 1-1 E rimane nella terra di mezzo E bravo Ionita su mare In preparato In preparato Застривает он в Godfrey di Donsi, Donsa, вперed Per riuscire i правili, riuscire il mese 22, na l'es Udaro, oh, e uglavo 3-1, al 20-4 Probabilmente su un partito disimportante Già l'eremo Il primo tempo Vorrebbe la palla lunga alla panchina del Verone 46-55 I due centrali che stanno bloccati Stanno lì bloccati, ma danno anche sicurezza, diciamo Perché Suda Sua posizione verrà completamente dalla parte opposta del campo Ma anche alla sua squadra di aria tra E poi la pressione di Duncan Sansone E questa è la prima parte Un primo peore Aluminato E pui pressi Protassi l'es Ciò è il ritardo. E il tempo è lo stesso. Il tempo è diverso. Il giocatore Pallermo è in un posto. Fun racesли 29 minuti. La fiume è stato il giocatore. E' stato un giocatore. L'è un'esplitore. Quali i ragazzi считano che Pallermo puoi mai vivano in quel momento? Pallè per la pioggia è davvero fantastico. Il fatto che si è riuscito a fare il filmare. Il bisogno di avere l'occasione. Questo è quello che importa il italiano. Romolo, una grande risposta. Un'ultima da Junga. Il giocatore Polermo è così. All'interno di Polermo è concentrato sullo Romolo. Viviani è rimasto completamente prescritto. E finalmente è arrivato in gioco. Grazie a tutti, grazie a tutti.